amici sdrogonauti e amiche sdrogonauti bentornati iniziamo subito il pacco dei sauri perchè è tutto bagnato? ho perso il mio pterodattilo come fai a perdere un pterodattilo? volante supersonico ha perso un pterodattilo eccolo oh 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 e te lo meridi eh fantastico questa farfalla provoca un disastro nel futuro no close in person questo posto è stra... vogliamo giocare con un dinosauro che non ci... e non è mica fa uno stegosauro stegosauro dovrebbero essere elbiboli di stegosauri per clonare un dinosauro l'ambra deve contenere qualcosa che succhi sangue una zanzara oddio dovevo mettere un vampiro dovevo totalmente mettere un vampiro ci ho pensato troppo tardi dovevo mettere un vampiro va bene troppo tardi andiamo avanti aiutami a insegnare ai pterodattilo... aiutami a insegnare ai pterodattilo... a fare canestro una palla da basket poink eh dai ce la puoi fare eh no fuori dallo schermo palla da basket palla da basket mila al tabellone ah accidenti palla da basket ce la puoi fare credo in te ma cosa... cosa c'è qui? una lastra metallica pesante immobile palla da basket palla da basket tu devi fare canestro dannazione palla da basket grande grande a posto vai qualcosa questa pecora non ingannerà nessuno aiutala a trovare un posto nella mostra eeeh del mmm pinne dorsali dorsale dorsale pinne no uuuuuh un corno no intanto lo mettiamo questa nella borsa che torna sempre utile un grande spaventato lascia il pace i miei dinosauri io non lo so sti cacciatori maledetti insegnanti insegnanti la cena mi si è bloccata in gola eeeh abbiamo bisogno di un gatto pepato ha 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 così imparata così imparata ad andare con i tyrannosauri dai ai rapaci una preda da catturare un coniglio rosa gustoso non ho ben capito cosa è successo ma non importa trovo e cattura l'allosauro fuggito allosauro in fugo inizia questo allosauro ha lo stesso pro crea qualcuno che possa aiutare a trovarlo questo allosauro ha lo stesso problema della mia gatta dimentica sempre di aprire la cosa fuori eeeh crea qualcuno che possa trovarlo eeeh posso investigatore privato intelligente bambino barbaro inestimabile no investigatore privato cacciatore non trova alcuna traccia dargli uno strumento per aiutare ha bisogno di una pipa di una pala di una piazza di un papi di una pinna di una pista ha bisogno di una pista no ha bisogno vabbè lente di ingrandimento gargantuesca ho sbagliato a scrivere gargantuesca non fa niente per un lavoro grande ci vuole una grande lente metti qualcosa nella gabbia per attirarlo una una bistecca gargantuesca una bistecca gargantuesca dai guardiamo qualcosa per fare la testa del dinosauro diamo un nallosauro piccolo nallosauro piccolo fermo fermo una fionda no un richiamo per allosauri perla richiesto all'aglio ma io una pietra sirena bisogno di una sirena sirena audio un fucile narcotizzante neutralizzante parola parola po' ma ma nooo proviamo con del sonnifero è capito la custode non è mica facile portare in spalla un allosauro voglio di cosa manca cosa manca lui non tu lui possiamo ricostruirlo dino da 5 miliardi di dollari non era l'uomo da 5 milioni di dollari è in molte condizioni allora lo meccanico ma siete sicuri meccanica o da parte anatomica una nuova fonte di energia abbiamo bisogno di un reattore nucleare zanne di squalo di drago facciamo denti di drago succo di peperoncino di tec sacra no acqua no lava via abbiamo bisogno di sangue sanguetta olio va bene io rimango qui a guardare mentre tu lo mangi e ti serve di una mano dai dai io non lo so sti scienziati raccogliamo è troppo troppo strogo sto gioco rovine di ellis questa pianta cornicola ma non riesco a farla crescere dalle carne carnea cornea no sazia eeeh sazia innocua elefante elefante se muodisce prima pollice rosso formichine avete problemi? una formica regina rigida regale un attimo posso interagire qua ha bisogno di essere vediamo un po' volante supersonico arcobaleno ha bisogno di un microscopio solare spazio chi è vlad le ossa del cristallo dell'ellissi raccoglie di cristallo del re ellissi c'era una parte che mi sfuggiva ciò ha bisogno di un'altra parte che mi fuggiva un'altra parte di un'altra parte sia ma siamo abberenati? no siamo solo viola addormentato csssshhh No, no, no Criptozoologo blu Punteggiato Vediamo un po' Alla ricerca di ossa Per il cripto Eccolo, la spina dorsale Consegna Ma, facevo un po' più Un po' ingombrante come pulitore Però va bene Dove c'è gusto non c'è perdenza Equipaggio la comitiva di coraggiosi Dai al guerriero Eh, vabbè, là è sempre uscito da Golden Dragon Ha bisogno di un'ascia da guerra gigante Chi è, Robin Hood? Al brigante Dagli un'arma che posso dare dalla distanza Un arco Di acero Velocissimo Tu hai bisogno di uno stregone Una Un bastone magico Non so come si traduca Staff Bastone magico Blu Runico Bazzone legno Ti ho un po' meno epico di quanto Penso Un po' sono scetto Andava bene La guaritrice Un defibrillatore Atomico Upsis Eh, la vita del leader C'è tutta sta fatica Mi avete fatto fare Io vado a rubare i loot Tra l'altro voglio quella spada Ninja, ninja No, la spada No Ah, eh Dannazione Andiamo avanti Cascate di anafora Fria qualcosa per farmi abbronzare Lettino Abbronzante Solo i gorilla E tu non lo sei Gorilla No No Dj Ok Aiuto a esercitarmi con la pittura Ho bisogno di un grande pennello Ma sei un Elefante Parco dei sauri No Ce l'hanno già stato Ahia Ok, questo è facile Morto Morto Aiutiamo a riprendere la navigazione Qui c'è bisogno del mio sniper Ok Ridammi il mio sniper Ma cosa Questi là di fantasmi Ho sbagliato target Aspetta caro che ci mettiamo Rinoceronte Minuscolo Esplosivo Immobile Ma Per il potere dei jedi Muori roccia Ma che ho fatto questo Sprofondante Abbiamo No Abbiamo bisogno di Palloncini Palloncino No Vada Cacchio Cacchio Palloncino Immobile Mi devi dare tempo Con una fune Legano il palloncino Vediamo Legano Non a me No 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 Palloncino Togli Immobile Niente Tutte le mie idee Galleggiante Spuchi Si mangia Alghe Alga Fatevelo abbassare Perché io questo No Erba Un Pesce Di erba Di torba Di ave Insalata Sono esigenti Forte Questi Altro Che cavolo Frogger No Mettiamo Un Ceppo Gioco Di salto Retro Classico Io non sono un gorilla Però posso essere peloso An peaks Il No Maggia Gioco S精 la fissura la fissura con l'ascienza e la fissura è una fissura e la fissura l'escrizione è una fissura ce l'abbiamo fatta cosa fermo non porterai caos e distruzione è bisogno di una tuta impermeabile non porterai non porterai ahà mazza carreteno e ora di catturino il sapore è davvero pariegato ci vuole un escarco baleno hai bisogno di un pesce al latte pesce latte ah bile no bistecca lattea no una bistecca delfino di cioccolata piccolo cioccolato di armellino latte latte cioccolato ah mazzante è stata difficile questa era proprio uno squalo con dente che un amico umano per ogni scendere ce la faremo si spera cos'è come su vabbè un sassofonista sai che che gem session anzi abbiamo bisogno di un'alchimista 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 alchimista alchimista dopo stregone non 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 che sì che 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 si che che spettacolo ragazzi chi è? oddio un bandito anche per oggi è tutto ragazzi ci sentiamo al prossimo episodio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti